ciao sono evenia e vorrei parlarvi dell'importanza della cyber sicurezza oggi ognuno di noi ha una sua dimensione digitale abbiamo tantissime informazioni preziose sui nostri telefonini informazioni che non vorremmo perdere ma non vorremmo neanche condividere o vederle pubblicate in rete questo è lo spazio che va protetto va protetto come casa nostra che chiudiamo a chiave eppure molto spesso non ce ne rendiamo conto non ci rendiamo conto dell'importanza della password e di modi di proteggere questo nostro spazio in più non siamo solo noi siamo tutti in rete la cibersicurezza è una rete esponendo noi esponiamo anche ai rischi i nostri amici questo è un aspetto c'è anche un altro aspetto che non solo internet come mezzo di comunicazione tra le persone ma c'è anche l'aspetto di oggetti che sono collegati cosiddetto internet of things nel 2015 erano circa 15 miliardi oggetti collegati oggi sono circa 26 e questa questo modo di crescere accelera e stimiamo che tra 56 anni saranno circa 75 miliardi di oggetti che saranno collegati tra di loro cosa vuol dire questo da un lato ovviamente una vita molto più facile ma d'altro canto ovviamente ognuno di questi oggetti sarà un potenziale punto di entrata per chi voglia attaccarci ed ecco da qui l'importanza di da un lato la nostra la nostra consapevolezza la nostra responsabilità dall'altro lato anche dei sistemi che ci circondano quindi la sicurezza delle connessioni la sicurezza di queste cose che abbiamo quindi io spero che vi divertirete e che apprenderete molto abbiamo invitato tanti esperti a condividere la loro esperienza con voi a definire un po quali sono i problemi quali sono le soluzioni e come soprattutto voi potete farne parte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti